Marta, senti ora Sì, ho Senta, mi ha fatto una cazzata Qua anche Libers Pesa, è morta Perché è che prendo il best Perché mi sono bloccato invece il minion? Non lo so, bisogna salvar Libers però Cioè Alessina ha uno spunto Morto No, no, no Ho flashato, ho flashato Sono tutto io Ma Marta, Marta Non ci so Finata Aspetta Eh, va se cazzi Arrivati santa Data vince Oh lì Sì, sì Cosa hai vinto tutte le promo adesso Gold 4 Oh adesso si va avanti Devo farmi il mio gold No Cosa 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 Grazie.